Per intraprendere lo studio degli azionamenti elettrici, cioè dell'utilizzo dei motori elettrici per trasformare energia elettrica in energia meccanica, è necessario avere dei fondamenti di cinematica e dinamica dei solidi. Consideriamo come esempio un cilindro pieno di materiale di densità uniforme di massa m in kg che ruoti alla velocità angolare ω in radianti al secondo intorno al suo asse longitudinale. Se il cilindro abbia raggio R, ω quindi come detto sia la velocità angolare ed m sia la massa del cilindro, potrebbe essere questa una rappresentazione ad esempio del rotore del motore asincrono. Un punto sulla superficie esterna del cilindro avrà una velocità periferica espressa in metri al secondo, quindi si muoverà con una velocità periferica che sarà data dal prodotto della velocità angolare ω per la distanza del punto rispetto all'asse. Definiamo alcune grandezze caratteristiche e le relazioni. Intanto la velocità angolare ω la possiamo legare al numero di giri al minuto, altra forma nella quale viene espressa la velocità di rotazione del motore. E abbiamo che la velocità angolare ω sarà data dal numero di giri compiuti in un minuto per 2π radianti corrispondente a un giro intero diviso i 60 secondi presenti in un minuto. Quindi questa è la relazione che lega la velocità angolare, il radiante al secondo con quella in giri al minuto. Definiamo un'altra grandezza caratteristica, l'accelerazione angolare data come variazione della velocità ω nel tempo. Se consideriamo gli istanti intervalli di tempo molto piccoli, indichiamo con dω fratto dt appunto l'accelerazione angolare che rappresenterà appunto la variazione della velocità angolare nel tempo sia nel senso di aumenti di velocità angolare e quindi con ε positivo sia per rallentamenti dalla velocità angolare e quindi con ε negativo. Quindi noi abbiamo che il movimento di rotazione lungo l'asse non lo possiamo interpretare come la rotazione sui cuscinetti presenti sull'asse del nostro motore che è l'asse del rotore e del motore quindi in questo modo e che presenteranno un attrito durante il movimento. Un'altra componente dell'attrito è rappresentata dalla ventilazione quindi dalla resistenza opposta all'aria alla rotazione del rotore quindi avremo che il rotore del nostro motore supposto per adesso privo di carico meccanico applicato quindi a vuoto nel suo funzionamento che il nostro motore presenterà intanto dovrà vincere una coppia resistente data che chiamiamo cr espressa ovviamente in newton per metro e questa coppia resistente nel caso appunto di motore a vuoto quindi senza carico meccanico applicato questo sarà rappresentato dalla somma degli attriti per ventilazione e sui cuscinetti quindi coppia resistente per attrito e ventilazione a questa coppia resistente contrapponiamo la coppia motrice del motore sempre espressa in newton per metro che sappiamo essere la coppia sviluppata appunto dal motore nella sua trasformazione dell'energia da elettrica a meccanica la coppia motrice o coppia meccanica sarà quella che il motore per meglio dire identificabile con la coppia resa dal motore sul sull'asse possiamo quindi definire un'altra grandezza legata alla geometria del corpo in rotazione è che il momento di inerzia j a cui l'unità di misura è chilogrammi per metro quadro momento di inerzia che dipende dalla geometria del corpo in rotazione e lo possiamo interpretare come un effetto di opposizione alle variazioni di velocità angolare legate al principio di conservazione appunto del momento angolare quindi il momento di inerzia del corpo che si oppone alle variazioni della velocità angolare maggiore il momento di inerzia e più difficile sarà far cambiare la velocità angolare del corpo in rotazione l'equazione di equilibrio del meccanico del corpo in rotazione sarà quindi esprimibile legando queste quattro grandezze dove abbiamo la coppia motrice che sarà in ogni istante equilibrata dalla coppia resistente più la coppia di inerzia data dal prodotto del momento di inerzia per l'accelerazione angolare questa equazione di equilibrio definisce in ogni istante l'uguaglianza fra la coppia motrice e la somma di coppia resistente e coppia di inerzia allora nel caso in cui la velocità di rotazione omega sia costante quindi non ci sia accelerazione angolare quindi epsilon sia uguale a zero l'equazione di equilibrio si riduce a coppia motrice uguale coppia resistente ed è il caso in cui il motore sta ruotando su un carico nel nostro caso gira a vuoto dopo aver raggiunto la sua velocità nominale in quelle condizioni se invece la velocità di rotazione angolare aumenta quindi se y è maggiore di zero l'accelerazione è maggiore di zero allora avremo che la coppia motrice dovrà vincere sia la coppia di attrito e ventilazione sia la coppia di inerzia j per epsilon quindi per ottenere una variazione di velocità positiva quindi un incremento di velocità angolare dovremo aumentare la coppia motrice che deve avere un valore maggiore della coppia resistente per vincere anche la coppia di inerzia che si oppone appunto alle variazioni di velocità angolare quindi abbiamo che la coppia motrice deve vincere le due componenti per avere un incremento di velocità angolare deve vincere gli attriti e la ventilazione negli attriti in generale ma anche la coppia di inerzia nel caso in cui la velocità di rotazione diminuisca quindi con un'accelerazione angolare minore di zero avremo che anche in questo caso la coppia di inerzia si oppone alle variazioni di velocità quindi tenderà a mantenere la velocità precedentemente assunta dal corpo in rotazione e quindi la nostra equazione tenendo conto che y è negativa assume questa forma in cui la coppia motrice e la coppia di inerzia agiscono concordi nel vincere la coppia resistente anche nel caso in cui noi togliamo completamente la coppia motrice durante la decelerazione del corpo abbiamo che l'equazione di equilibrio diventa questa dove la coppia di inerzia risulta essere uguale alla coppia resistente quindi la coppia di inerzia si oppone alle variazioni di velocità e determinerà una frenata quindi una riduzione della velocità di rotazione del motore che sarà naturale quindi non dovuta a un'azione positiva di frenatura a un'azione positiva